Ciao io sono Pasquale ed oggi come promesso volevo partire con questa lunga serie dedicata ai famosi dividend aristocrats un'azienda l'avevo già precedentemente trattata e si tratta di ExxonMobil ovviamente anche avendone già parlato di Exxon non credo di rifare un video ad essere dedicata ma fammi sapere nei commenti qui sotto se invece tu desideri un approfondimento in quanto nel video originario non approfondiva appunto l'azienda come aristocrats sono parte comunque della mia strategia di investimento spero per cui di studiarle bene per passarti più informazioni possibili riguardo a queste famosissime aziende ovviamente puntando su queste aziende non è detto che non si possa puntare anche su una strategia growth ma essenzialmente chi sceglie queste tipologie di società lo fa principalmente per i propri dividendi la prima e più fortunata azienda è quella con cui comincio si chiama Hormel Foods essendo il primo video ti spiego come voglio strutturare questa serie prima di tutto una panoramica piccolissima cortissima generale sull'attività dell'azienda poi uno sguardo allo stato e ai dati che la definiscono per cui quelli economici ed infine un giudizio finale su se l'azienda in sé che sul fatto se convengano appunto a quel punto al momento appunto della pubblicazione del video per cui oggi acquistarla per averla nel proprio portafoglio azionario pronto? Bene, cominciamo! Hormel Foods è un'azienda quotata al New York Stock Exchange nasce nel 1891 ed io all'epoca appunto ero piccolo, molto, da George Hormel inizialmente solo dedicandosi al packaging dei prodotti inscatolati ne è poi diventata anche produttrice di tali prodotti il suo prodotto più famoso è Spam, la carne in scatola speziata Spam infatti sta per Spiced Ham, prosciutto speziato piccola curiosità la posta elettronica, quella comunemente indicata come Spam quando indesiderata viene definita così proprio grazie a uno sketch comico dei Monty Python dove una cameriera cercava a tutti i costi di vendere questo piatto a tutti i clienti a base appunto di Spam vabbè, divagazione oltre a produrre cibo in scatola Hormel è anche proprietario di alcune catene di ristoranti etnici messicani la C-Cheese per esempio è uno di questi ma i suoi prodotti alimentari spaziano a giorno d'oggi dai prodotti biologici come ad esempio la Justins oppure la Schippie, anche questo si trova dalle parti nostre, un marchio di burro di arachidi o anche la Victoria, produttice di salse messicane o anche la Columbus Craft Meats, che anche questo credo che si trovi in giro, che produce qui in Saccati si tratta per cui di una produzione industriale sempre dedicata alla grande distribuzione dove si trova Hormel Foods, la sua sede principale a Austin in Minnesota prima di continuare ti ricordo che io ho un account Patreon nel quale pubblico ovviamente i contenuti riservati solo ai propri iscritti beh, puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni in questo account Patreon mi puoi sopportare a partire da 4 euro mi sono fatto pubblicità continuiamo analizziamo adesso i dati di Hormel Foods l'azienda, oltre a fare parte dei famosi, ovviamente, Dividend Aristocrats perché se no non ci dedicavo un video a proposito e cioè quelle aziende che per 25 anni consecutivi hanno aumentato il proprio dividendo fra anche parte di un altro prestigioso club oltre a quello di Dividend Aristocrats che si chiama Dividend Kings che sono quelle aziende che hanno aumentato il proprio dividendo per almeno 50 anni consecutivi per cui, beh, la sua capitalizzazione attuale è di 24.8 miliardi di dollari Hormel conta 20.000 dipendenti e un fatturato, anno, nel 2019, di 9 miliardi e mezzo di dollari con un profitto di circa 1.800.000.000 di dollari nel 2019 come vedi dalla chat, aziende di questo tipo hanno sempre un fatturato e un profitto più o meno stabile nel tempo che non tende a discostarsi molto nel corso degli anni o almeno questo è il caso di Hormel Foods andiamo a dare un'occhiata invece al balance sheet a parte un 2018 che è stato un anno difficile ma lo è stato un po' per tutti sui mercati internazionali sia il debito a lungo termine che quello a breve termine, quello corrente sono abbastanza stabili nel tempo mantenendosi su livelli simili nel corso degli anni questi sono coperti sia a breve termine che a lungo termine dagli asset totali per quanto riguarda quelli a breve termine sono praticamente il doppio delle liabilities mentre gli asset a lungo termine sono quasi 5 volte in più delle liabilities a lungo termine alla lateral della registrazione di questo video il dividendo attuale di Hormel Foods è di circa il 2.02% che ne fa un dividendo discreto ma non eccezionale per chi cerca un flusso continuo di cassa con i dividendi che porta a un dividendo annuale totale di 0.93 centesimi di dollari ovviamente diviso trimestralmente essendo quotato negli Stati Uniti d'America la sostenibilità di questo dividendo è ottima anche considerando il fatto che Hormel tiene il suo dividendo circa il 25% più basso della media delle aziende che operano nel suo stesso settore di riferimento che è quello del food e quindi alimentare il suo pay ratio è del 45.9% per cui è ampiamente coperto dagli earnings ne fanno uno di quei titoli che sono in pratica a tutela del dividendo totale del proprio portafoglio proprio a causa della sua stabilità che c'è nel tempo il settore è atteso ad essere in contrazione nei prossimi anni ma con una crescita stimata totale appunto nei 5 anni successivi che va dal 3.2 al 6% per cui per Hormel si tratta di una crescita molto bassa e se si cerca un titolo che faccia oltre che dividendi anche di buona crescita crescita nel tempo per cui di valore questo potrebbe portare il portafoglio a sottoperformare in conclusione cosa ne penso di Hormel Foods nel portafoglio di Dividend Aristocrats? ne vale la pena investire? sicuramente lo intruderrei nel portafoglio come titolo conservativo bene o male anche durante la crisi la gente per forza deve andare a mangiare magari spenderà un pochino di meno in alcuni prodotti ma comunque deve andare a mangiare deve nutrirsi per cui avrebbe senso avere una posizione di Hormel Foods sia per un dividendo che si può definire sicuro almeno nel medio termine nel medio periodo a meno che ovviamente non accadano cose inaspettate ma anche come titolo stabilizzante è da dire che al momento il titolo è quotato leggermente al di sopra del suo valore intrinseco il titolo dovrebbe essere attorno a una quotazione di circa 40 dollari ad azione sicuramente al momento in cui sto generando questo video che è il 18 gennaio 2020 questo titolo ha quota attorno ai 46 dollari ad azione a te le tue considerazioni io non sono un consulente e non ti sto invitando ad investire ma sto semplicemente dandoti le mie opinioni sul titolo di Hormel Foods fammi sapere cosa ne pensi di Hormel Foods nei commenti qui sotto scambiamoci delle idee su questo titolo e per favore fammi sapere se hai già investito in questa azienda, in queste azioni o se ci pensavi di metterci qualche soldino se il video ti è piaciuto per favore distruggi il pollice in su iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche e per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao